Giovanni Sallusti, mi mancano i vecchi comunisti, prefazione di Giuliano Ferrara. Giovanni, non esistono più i comunisti di una volta? No, assolutamente. Devo dire purtroppo una cosa che non mi sarei mai sognato di dire fino a poco tempo fa. Però di fronte, diciamo che da me è una nostalgia ovviamente paradossale, è la nostalgia di un nemico, neanche di un avversario, di un nemico, perché io credo che, come diceva Karl Schmitt, la politica si fonda sul binomio amico-nemico. Ora però non c'è più la politica, non c'è più neanche il nemico. Se noi guardiamo la, se vogliamo chiamarla, sinistra contemporanea, diciamo il fronte progressista contemporaneo, ci fa subito innescare un'immediata nostalgia per i vecchi comunisti, perché il vecchio comunista non era per le missioni zero, era per la fabbrica, non era per il moralismo giudiziario o il fanatismo apocalittico, era per la politica, per il realismo della politica. Non era per la cancel caldo, non era per sbaraccare la civiltà occidentale, anzi pensava, secondo me in modo arrogante e totalitario, di essere la vetta della civiltà occidentale. E quindi paradossalmente c'era un alfabeto comune nello scontro totale, più con i vecchi comunisti, che con questi estremisti soft, perbene, chic, che sono, come dire, un pericolo esiziale, a mio giudizio, per la civiltà occidentale. Grazie.